Ciao, in questo video voglio parlare dei tensioattivi. Fin dall'antichità l'uomo ha fabbricato saponi per lavare e lavarsi, ma un conto è usare prodotti naturali e un conto sono quelli chimici. Oggi questi prodotti devono essere biodegradabili, anche se non viene menzionata la tempistica di questa biodegradabilità. Per molti anni si sono usati i tensioattivi derivati dal petrolio, che nulla avevano di biodegradabile, e quindi il problema causato da questi prodotti in quegli anni è tuttora presente. Il tensioattivo ha come scopo quello di abbassare la tensione superficiale di un liquido, nella maggior parte dei casi l'acqua, per aumentare il suo potere bagnante o per far sì che i due liquidi si meschilano meglio. Quando si usano molti tensioattivi si formano degli aggregati supramolecolari chiamati miceli. Questi si respingono a vicenda e mantengono in sospensione e separati oli e grassi, che possono essere così allontanati. In parole povere, quando si lava il pavimento con uno straccio acqua e detersivo, lo sporco finisce nel secchio e il pavimento torna pulito. Sono certamente un grande aiuto, ma eliminare tutto questo sovradosaggio di detersivi è per l'ambiente un impegno sempre più gravoso. Il primo consiglio è quello di rispettare le quantità indicate sulla confezione, in base alla durezza dell'acqua che si andrà ad utilizzare. Ti sarà capitato di fare un bagno o una doccia in montagna o in una casa dove non c'è il calcare, e accorgerti che l'acqua sembra già saponata perché scorre via con maggiore facilità, ossia l'impressione che il sapone non se ne vada dalle mani. Il motivo è semplice. Più l'acqua è pulita, inferiore è la sua tensione superficiale, quindi minore sarà la quantità di detergenti da utilizzare. Perciò, eliminando l'inquinamento nell'acqua di casa o dalle attività lavorative, che è causato normalmente dalle particene in sospensione, dal calcare o dal ferro, si utilizzeranno meno detergenti in generale e si compirà una vera buona azione verso l'ambiente. Ne consegue che installare un sistema di microfiltrazione per tutta la casa e un sistema anticalcare o antiferro ti permetterà di abbassare il tuo impatto ambientale, ti farà risparmiare un sacco di soldi in detergenti e salvaguarderà tutto l'impianto idrico e gli elettrodomestici di casa tua. Ovviamente Miniera ha svariate soluzioni per eliminare gli inquinanti e abbassare l'uso dei detersivi e con l'uso di alcuni prodotti si possono addirittura eliminare del tutto alcuni detergenti. Certo, bisognerà calcolare il costo della manutenzione, ma sarà di gran lunga inferiore rispetto al maggior consumo di detersivi senza considerare i danni che ognuno di noi può evitare all'ambiente. Bene, anche per questo video è tutto. Se hai deciso di acquistare un purificatore d'acqua, scrivimi o telefonami. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video. Ciao!